amici bentornati sul mio canale salvo a tutti da leonard cominciamo con una nuova recensione una nuova partita giocata e commentata per un videogame a cui sono molto affezionato molti di voi forse lo ricorderanno ed è Double Dragon, questa è l'edizione per Amica 500 nel nostro canale abbiamo fatto diverse recensioni di Double Dragon c'è quella per il NES a 8 bit che era completamente stravolta rispetto all'edizione della sala giochi e abbiamo visto invece l'edizione molto bella realizzata per Genesis per Mega Drive che riprendeva quello di sala giochi specialmente con la dinamica di gioco e in particolar modo anche la grafica andiamo un po' a vedere come è realizzato questo, io ho fatto un'eccezione anche del Commodore 64 ma per il Commodore Amica 500 l'ha stato realizzato molto meglio almeno in termini di grafica sfruttando quelle che era la paletta dei colori del computer ora devo dire la sincera verità, molte volte, questa cosa noi dobbiamo sempre tener conto molte conversioni non erano state fatte ufficialmente dalla casa madre ma erano affidate a case secondarie quindi anche se un gioco lo faceva la Capcom, la Konami per le sale giochi poi c'era la Virgin, c'era l'Elite Software c'erano molte conversioni che venivano realizzate e non sempre si andava a riprendere il codice sorgente originale molto spesso i programmatori che facevano queste conversioni erano tra virgolette costretti a prendere in visione il gioco originale vedere quali erano le dinamiche di gioco e riprodurre partendo da zero, quindi rifacevano un gioco quasi ex novo imitando tra virgolette o comunque prendendo spunto da quello che già c'era quindi dovevano riprodurre le mosse, la grafica e si andava a creare questo videogame qual era il problema principale di questa cosa? è che spesso e volentieri le dinamiche di gioco, il motore di gioco era alterato non era lo stesso quindi si andava magari ad avere un gioco che di grafica come in questo caso riprende i dettagli cerca di riprendere tutti i dettagli ma purtroppo a livello di gioco vero e proprio e di dinamica crea qualcosa di... di ibrido ecco quindi un po' una via di mezzo giochi a Double Dragon sai che la dinamica di gioco è quella sai che livelli sono quelli però poi la meccanica è diversa sembra di giocare a un altro videogame o qualcosa di derivato la dinamica di questo gioco sembra più quella di Renegade non so se l'avete presente rispetto appunto al primo Double Dragon era sempre un prodotto della Tecnos dicevo, Double Dragon 1 la prima volta che l'ho visto l'ho visto in una sala giochi in uno stabilimento balneare c'era la fila erano tutti innamorati di questo gioco negli anni successivi io l'ho giocato su quelle che erano le piattaforme che avevo a disposizione avevo il Commodore 64 quindi l'ho giocato tantissimo su Commodore 64 la versione Elite Software che ovviamente riprendeva la dinamica di gioco la posizione dei nemici però era un porting veramente fatto molto molto male poi andavo a casa di mio cugino che aveva la Mica 500 quindi ero affascinato dalla grafica della Mica 500 e aveva anche il Nintendo 8-bit e giocai a Double Dragon per Mica 500 e per Nintendo 8-bit questo era per Mica abbiamo giocato anche in due perché si poteva giocare in due con due joystick e purtroppo questo gioco aveva delle peculiarità e delle limitazioni in primis ricordiamoci che c'erano solo due pulsanti quindi avevi calcio e pugno e tenendo premuto un pulsante andando in alto con la cloche si saltava di pugno e cloche in alto in contemporanea si saltava se si andava a destra e sinistra pugni e calci se si premevano insieme i due pulsanti che erano anche un po' lontani sul joystick perché avevano la cloche in mezzo mi ricordo questo joystick si faceva la gommitata o comunque si poteva dare il calcio volante il salto al calcio volante le gommitate non erano efficaci come Double Dragon Arcade per chi lo conosce dove il dragon si finisce a gommitate come dico sempre si va avanti a gommitate quindi anche con un singolo oggettone si riusciva a finirlo e quindi abbiamo fatto diverse partite il gioco è diverso e anche molto 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 difficile qui ci sono dinamiche un po' particolari faccio un esempio non l'ho presa ma la mazza da baseball ti permetteva di colpire i nemici sia davanti che dietro ovvero se tu avevi due nemici che ti stavano avvicinando da ambo i lati potevi premere il pulsante della mazza da baseball caricava la mazza verso le spalle e colpiva il nemico alle spalle e poi dava il colpo frontalmente e colpiva il nemico frontalmente quindi con un colpo solo si uccidevano le armi sono molto efficaci guardate il frustino ci ha ucciso praticamente il boss del primo livello l'abbo del primo livello e anche lì praticamente nella sala giochi la frusta non era molto efficace era più efficace molto più efficace la mazza eccola qui e i coltelli ovviamente anche i pugnali sono molto molto efficaci ora questo titolo ha i suoi difetti guardate anche quando si vada a prendere per i capelli il nemico in cui si possono dare ovviamente calci pugno lanciarlo alle spalle anche fa dinamicamente è molto macchinoso il segreto di questo gioco è andare avanti a calci ecco qua molto velocemente essere veloci e prendere bene il tempo con il pulsante e quindi si va a terminare il gioco la velocità è anche essa molto macchinosa cioè i nemici qui si muovono velocemente ti seguono sono programmati per seguire sono sorta di ombra del tuo personaggio quando ce ne sono tanti è abbastanza difficile perché devi cercare di non farti accerchiare ma ne puoi prendere anche due o tre per volta con un singolo calcio quindi non è poi così difficile altre differenze se non c'è una mossa a cui ero veramente molto affezionato ed era la mossa del calcio quello rovesciato così chiamato vi ricordate la versione arcade si premevano formata da tre pulsanti no? pulsante per saltare quello per dare il pugno e il calcio se si premeva salto e pugno insieme si dava la comitata se si premeva calcio e pugno insieme il personaggio saltava sul posto e dava una sorta di calcio rovesciato al nemico che c'era le spalle quindi ti difendevi dall'attacco alle spalle qui il calcio rovesciato non c'è c'è il calcio volante che non è neanche molto efficace quindi gli attacchi dall'alto sono praticamente inutili le cose migliori è utilizzare appunto ripetutamente il calcio vedete anche qua com'è difficile premere il bottone e riuscire a saltare purtroppo eccolo qua infatti è difficile pure ecco sono caduto è pure difficile arrivare a punti in cui ad esempio saltare il ponte della foresta è sempre molto molto difficile hanno riprodotto tutto devo dire la sincera verità è stato riprodotto il fatto che i nemici escano dall'ascensore è stato riprodotto anche l'abobbo che rompe il muro se ci avete fatto caso ma poi ci ritorneremo gli abobbi sono tutti uguali nella sala giochi ce n'erano di due tipi c'era quello completamente pelato che è quello bianco che è stato all'inizio poi c'erano quelli con gli occhi un po' più spiritati un po' più aperti e avevano la cresta i capelli a cresta qui la struttura lo sprite della bobbo è sempre quello cambiano solamente i colori così come i nemici sono tutti uguali e cambiano i colori invece nella sala giochi avevano anche dei differenti vestiti le donne qui hanno il vestito rosso ecco qui c'è il mostro del boss del secondo livello che era appunto il cosiddetto banana che l'ho ucciso già andato ah no immaginavo pensavo fosse andato all'interno del nastro trasportatore e qui c'è il nastro con la sala giochi devo dire la sincera verità si hanno riprodotto il gioco è bello giocarci perché comunque vai a ripetere insomma a ricorrere tutte le cose che sono state fatte nella sala giochi però a mio avviso potevano fare veramente un lavoro un lavoro migliore qui come vedete manca l'ascensore che poi ti porta giù e vai ad affrontare i nemici infatti qua non c'è vedete c'è il binario dell'ascensore ma non hanno fatto la pedana i nemici sono tali e quali a quelli che incontrerete quindi ecco ci sono due nemici qui l'unica cosa che cambia è sempre sono gli stessi ma cambia il colore della pelle è un nemico molto simile al tuo come sprite come vedete però cambia il colore dei capelli il colore della pelle cambiano pochi dettagli invece in sala giochi ovviamente c'era cambiava il vestito c'era quello un po' più grande c'era quello che faceva le capriole queste cose purtroppo non le hanno rispettate alcuni dettagli anche del pavimento guardatevi sono praticamente tutti identici guardate anche come è fatto male qui il barile che viene lanciato i contorni sono poco dettagliati vi dico questo perché perché la potenzialità grafica che aveva l'amica 500 era molto più elevata cioè si poteva fare meglio se avete avuto modo di giocare a Double Dragon 2 sempre per amica 500 perché ce l'ha avuto Double Dragon 2 ha avuto una conversione veramente ben fatta sia a livello dinamico del videogame ma anche a livello di musica ed effetti sonori soprattutto il motore del gioco ricordava tantissimo quello del gioco originale quindi giocare a Double Dragon 2 per amica era un po' come giocarci per per sa giochi la versione arcade possiamo dire per Double Dragon 2 per amica 500 che il 90-95% del videogame è stato rispettato qua stiamo neanche al 20% questo è praticamente un altro titolo è veramente un altro titolo ecco qua la frusta è l'arma migliore perché è veloce nell'esecuzione va anche a lunga distanza cosa che invece non era sulla versione per 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 sala giochi qui credo che la Bobbo si è suicidato c'era anche la Bobbo qui ecco qui si riescono pian piano a portare vicino alla buca questi nemici la cosa brutta di questo di questo videogame ecco guardate anche lo sfondo c'è il quadro della foresta è veramente il quadro più bello di tutti lo dico la sincera verità era cattivante no? stai in un posto diverso ah no eccolo la Bobbo c'era l'acqua era molto molto bello invece qui l'hanno un po' sbagliato e devo dire che anche la paletta dei colori che hanno utilizzato insomma ce n'erano tanti disponibili per per l'amica e vedete il classico copia e colla degli sprite del ponte ecco sono riusciti a evitare di morire e anche e anche altri effetti sono sbagliati e molto spesso guardate i colori la pelle si va un po' a confondere con quello che è il colore del legno queste cose sono molto brutte da vedere dico sincera verità qui ecco ci sono anche un bug credo a livello di programmazione sto cercando di buttare in acqua questo nemico succede praticamente che il nemico rimbalzi sul nel vuoto a volte poi ci vanno da soli e vabbè sì il gioco è quello hanno rispettato le buche hanno rispettato i nemici ed è ben fatto per carità però però poteva essere realizzato meglio io mi aspettavo veramente una bellissima conversione guardate le uniche conversioni le altre piattaforme che hanno soddisfatto Double Dragon 1 credo la migliore sia stata quella per Genesis in termini di dinamica di gioco quindi rispettare veramente il motore di gioco e la grafica è stata ben realizzata anzi utilizzando anche forse più colori del normale è stata fatta anche un po' più accattivante e poi c'è una versione per Atari Lynx che seppur non c'è non c'è molto molto sfondo perché c'è praticamente uno zoom sul personaggio la Atari Lynx era la console portatile di Atari come il Game Gear aveva un display molto piccolo a colori con pochi colori soprattutto però era stata realizzata bene e là il motore di gioco ci ho giocato è molto molto meglio e credo che sia anche molto meglio di questa edizione però questa edizione a un'epoca ci ha fatto tra virgolette sognare cioè all'epoca beh bello double dragon facciamo partire a double dragon bello 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 e questo era quello che passava il convento tra virgolette però guardate ecco è finito il tempo però guardate che cioè sto giocando a un gioco che praticamente mi dà anche poco divertimento perché i colpi che darò ai nemici sono sempre gli stessi nemici da una parte e io ripetutamente prendo il tempo col calcio non conviene andare a prendere specialmente quelli a Bob non conviene andare a prendere la roccia perché è talmente lenta l'esecuzione che viene praticamente lanciato in aria la Bob dà un solo colpo che è questo qui con lo schiaffo e il calcio non dà i pugni in stagio che dava anche i pugni dava pugni schiaffi e soprattutto ti prendeva e ti lanciava qui non lo fa non ti afferra e non ti lancia le spalle anche non so se c'è di fatto caso anche quando riesco a prendere per la testa anche quando prendo per la testa un personaggio un nemico un avversario non so se avete fatto caso il lancio non viene fatto come veniva fatto in sala giochi ovvero il personaggio veniva lanciato alle spalle a distanza e molto spesso era utile per buttarli all'interno dei burroni o dei fossati viene lanciato velocemente dentro le spalle e c'è anche una possibilità cioè quella di colpirlo al volo col calcio mentre lo lanci questa è una cosa veramente strana questi sono quelli che in sala gioca con il taglio a banana i cosiddetti banana ancora lo ricordo erano dei personaggi molto molto e maledetto mi ha fatto cadere dicevo ecco che mi hanno preso al volo praticamente qui puoi colpire i personaggi al volo devo stare attento perché c'è il fossato ecco facciamo così magari ci andate voi no cascono all'indietro ok uno l'ho buttato giù dicevo ecco vedete questa mossa quando do le ginocchiate alcune volte lanciando il nemico alle spalle riesco anche a colpirlo una seconda volta prima che cade non lo so la meccanica lascia molto a desiderare qui praticamente i ragazzi hanno usato un singolo sprite per creare l'omino e tutti gli omini sono uguali cambiano solamente i colori del vestito ecco qui i banana sono verdi cambiano i colori della pelle della maglietta quindi non può creato queste combinazioni invece in sala giochi c'erano molta differenza degli avversari era molto bello questa cosa quindi qui hanno creato uno sprite per le donne uno sprite un sprite singolo per gli uomini cambiano solo i colori uno sprite singolo per gli abobbo c'è un solo tipo e poi uno sprite per il mostro finale che adesso fra poco ci arriveremo che è quello con la metaglia di dice quindi con quattro sprite con quattro strutture dei personaggi hanno fatto un intero video game c'è molto copia e colla di quello che sono le immagini sui fondali guardate ad esempio sulla sinistra in alto ci sono gli alberi praticamente lo stesso fondale ripetuto tre o quattro volte così come questa la parte in cui si sale le rocce lo sfondo tanto copia e colla quindi a livello anche di memoria mi sembra che occupasse un floppy da 7,20 il gioco adesso non ricordo mi pare un solo floppy occupasse per pc sono sicuro che usava un floppy da 1,44 e mi sembra che fosse a 16 colori addirittura il gioco era una cosa orribilante per pc era ancora più brutto motore di gioco identico fatto dalla stessa casa con meno colori i colori a schermo erano ancora ancora minori in grafica che 2G questa cosa mi ha deluso mi ha deluso tanto però il gioco è questo e alla fine ci si passava una mezz'oretta quei 20 minuti per poterlo per poterlo finire e alcune partite fatte in amicizia ecco qui Hulk ogni volta che c'era in sala giochi ricordo le battute ecco Hulk c'è l'incredibile Hulk chi affronti l'incredibile Hulk era quello che mangiava troppa verdura però l'hanno riprodotto con i pantaloni bianchi e il colore verde della pelle quindi questo era il boss del quarto del quarto livello i boss non erano difficili c'era una Bobbo al primo livello con dei nemici intorno c'era il banana al secondo livello doppio a Bobbo al terzo livello e questo a Bobbo verde che toglieva più energia quando dimenava insomma era molto più veloce al quarto livello e all'ultimo livello c'era il boss finale dove andavi appunto a liberare Marion questa è la base è stata riprodotta ecco qua vi devo dire un altro piccolo difetto di questo videogame i trabocchetti qui sono stato non so che fortuna ho avuto a non farmi colpire guardate con che velocità ci sono vengono mosse praticamente le lance tra parentesi è fatto malissimo ovvero si muove un braccio solo un altro è fermo sotto ci sono le punte identico alla sala giochi ma la frequenza con cui le lance attaccavano non era quella non era così velocemente è quasi impossibile passarci sotto perché è praticamente continuo l'attacco delle lance e qui c'è il punto con la doppia lancia che è difficilissimo è il punto più difficile del gioco io la prima quando arrivavo qui con mio cugino perdevamo spesso le vite tutte in questo punto del gioco certo quando sei bambino giochi pure in un modo differente avevo 10 anni la capacità l'intelligenza videoludica se la vogliamo definire così era un po' differente quindi hai sempre un atteggiamento diverso per la partita però poi anche negli anni questa cambia ma qui è che sarà difficilissimo questo pezzo è praticamente impossibile c'è praticamente un solo attimo in cui si può passare non puoi andare né sotto né giù non vedi l'altra freccia ecco appunto e qui vieni preso a ripetizione si muore a ripetizione qui non si riesce neanche a passare quando c'è quel frangente a chi si è addirittura morto non si riesce neanche a passare in quel frangente in cui hai lampeggi c'è quell'attimo di vulnerabilità guardate ragazzi si perdono le vite a ripetizione ok ce l'ho fatta e vabbè e vabbè dai passa passa ok sono riuscito a passare anche alla seconda questo ragazzi ho perso tre vite se si arrivava qui con una o due vite si moriva e si finiva la partita ok qui i soliti due bobby che escono dal muro ecco subito vai di sotto questo bug eccezionale del gioco non so perché non era mai capitato la prima volta mi è capitato questa cosa bellissima sono felicissimo e qua c'è la scena finale in cui c'è appunto Marion legata e la andiamo a liberare ragazzi anche qua gli effetti sonori vedete ce ne sono pochissimi ad esempio non c'è l'effetto sonoro del del muro che viene distrutto non c'è l'effetto sonoro degli spari qui arriva direttamente il cattivone finale che guardate è enorme è grosso come una bobbo cinque nemici insieme è difficilissimo che andare avanti però cercheremo di ucciderne un po' alla volta c'ho solo due vite speriamo di riuscirci ecco anche perché qui se ti prendono i proiettili mori subito i proiettili sono praticamente dei pixel neanche hanno la forma del proiettile cosa che invece poteva essere fatta mettiamoci qui con le spalle al muro e andiamo a ripetizione a calci prima o poi ce ne libereremo di qualcuno di questi e sarà più facile uccidere il mostro finale ah un po' di comitate fanno sempre bene quanta energia ci avete maledetti e qua ad esempio non c'è neanche la scena che viene che esce dalla dalla porta il mostro finale non si vede in alto il momento in cui prende la mitragliatrice e scende sembra quasi fatto un porting fatto in fretta e fuori vi dico la fincera verità però hanno realizzato comunque un buon titolo ho pochissima vita e non so se riuscirò spero proprio di sì dicevo hanno realizzato un buon titolo e soprattutto una cosa che a me è piaciuta molto di questo gioco è che all'epoca non stavamo a guardare se la grafica era eccezionale se era fatto ah no qui ti uccidere anche questo in sala giochi scappavano dicevo non stavamo a guardare se la grafica era eccezionale se mancava qualcosa qui non si libera più forse ginocchiate ok speriamo che muore dicevo non stavamo a guardare se la grafica era bella era brutta era un porting era quello questo passava il convento lo finiamo cerchiamo di finire il gioco in questa maniera non so ho preso a ginocchiate pensavo fosse morto però almeno ho ripreso una vita dicevo questo era e dicevo è bello è questo è Double Dragon è questo qua è lo stesso della sala giochi questa era la nostra idea quindi giocavamo a questi titoli e eravamo praticamente innamorati di questi titoli siamo quasi arrivati alla fine e così adesso termineremo questo video e questa partita mi hanno fatto un po' sudare specialmente il mostro finale però ecco qui il gioco termina e qui in automatico si vede la scena finale che poi vedete fuori schermo il momento in cui scende Marion cosa che invece in sala giochi prendeva un pochettino meglio ragazzi io non so era meglio lasciarla dove era guardate quanto l'hanno fatta brutta una cosa tremenda ecco forse di profilo un po' meglio vabbè come al solito si vedono le mutandine mamma mia mamma mia a My Hero c'è scritto sotto che sono l'eroe beh in sala giochi era più bella anche se non era mai stata bella ma che veramente la grafica è terribile molto più bello su su Genesis e su Nintendo spero che la recensione vi sia piaciuta io vi ringrazio come sempre per esservi soffermati sul mio canale ci vediamo al prossimo video e mi raccomando divertitevi su con con Double Dragon e con i videogiochi per amica